bene amici questo piccolo video solo per dirvi che sto per partire per la montagna mi vedrete meno presente nel canale questa settimana perché giustamente mi dedicherò alla famiglia sarò comunque presente nei commenti e con l'occasione visto che farò un viaggio lungo in montagna lo sfrutterò chiaramente per fare un video per tutti voi per la prova consumi da bologna fino a selva di valgardena dove sarò questa settimana in modo tale da vedere anche nei viaggi un pochino più lunghi come se la caverà la macchina partiremo chiaramente dal 100 per cento di batteria qui da casa e vediamo se sarò costretto a fare una sosta anche brevissima oppure la macchina andando a velocità di codice mi proporrà di fare tutta una tirata dalle prime simulazioni ho visto che una sosta a trento me la fa fare ma di veramente cinque minuti proverò a sfruttare la novità tra l'altro dell'applicazione nel x che permette la programmazione dei viaggi all'interno proprio dell'app è una cosa nuovissima per potermi fermare a ricaricare eventualmente a una colonnina nel x per poter sfruttare l'abbonamento che come sapete è molto più conveniente del supercharger tra l'altro è molto vicino alla supercharger in modo tale che se la dovessi sfortunatamente trovare occupata ho la possibilità chiaramente di andare a utilizzare il supercharger lì vicino con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti